Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono senza dubbio la coppia più inaspettata di quest'ultima edizione del reality. Sempre più innamorati, i due giovani vivono il sentimento che li unisce condividendo ogni momento della loro quotidianità con i followers. Proprio mercoledì, la coppia si è separata dopo aver trascorso parecchie settimane insieme. La Cannavò è infatti tornata in Sicilia per far visita ai suoi genitori. Ebbene dopo che Rosalinda ha passato tutta la settimana dalla sua famiglia, ieri aveva fatto un annuncio importante sulle sue storie Instagram. Ciao a tutti, volevo annunciare che oggi è il mio ultimo giorno qui, mi dispiace moltissimo lasciare la mia famiglia, la mia terra e i miei cari, però il lavoro chiama. Il giorno del suo ritorno a Milano è arrivato, tornerà dal suo amato Andrea Zenga e continuerà con i suoi progetti. Proprio stamattina ha pubblicato una storia Instagram mentre è nel treno per il ritorno in cui scrive ultima immagine della mia terra, fiera di essere nata in uno dei posti più belli al mondo.